Dal Tour de Force la Cavesa è uscita riportando quattro punti in tre partite. Una vittoria, quella in grande stile con il Biancavilla, una sconfitta, pesante con il Troina e un pareggio piccolo piccolo con il Castrovillari. Probabilmente in questo periodo la squadra a cui lotta non è assemblata in modo tale da poter reggere più impegni nel breve periodo. Lo prova il fatto che l'intensità richiesta si è vista fin dal primo minuto soltanto nella seconda partita, quella con il Biancavilla. Sarà importante comunque recuperare alcuni giocatori attualmente ai box per motivi fisici e anche per squalifiche. Più pazienti erano stati nel primo tempo della gara con il Troina, i giocatori della Cavese, che sono stati in grado anche di sbloccare la gara col gol di Allegretti. Ma dopo il gol incassato all'inizio del secondo tempo è subentrata in loro la frenesia e non sono riusciti a raccogliere neanche il pareggio, perché i siciliani hanno poi segnato la rete della vittoria. Tre giorni dopo è arrivata la gara col Biancavilla, contro cui i giocatori della Cavese hanno pressato fin alla metà campo avversaria e poi hanno insistito fino a realizzare le tre reti nel secondo tempo. Sono state spese tante energie e anche nella prima frazione della gara giocata quattro giorni dopo a Castrovillari i Biancoblu hanno provato a tenere palla senza forzare più di tanto. Avevano fatto appena due cambiamenti in formazione rispetto alla precedente gara, quindi si era accumulata anche la fatica per gli altri. Il più ispirato era sembrato Allegretti, a differenza degli altri due attaccanti, ma poi cambiando alcuni giocatori in corso d'opera i metelliani hanno insistito di più, anche con la freschezza di Maiorano e di Bacio Terracino e avrebbero potuto anche portarsi in vantaggio. E ora bisogna cercare di ridurre il distacco dal vertice. La Cavese di Mister Ferazzoli nel girone I del campionato di Serie D è seconda in classifica, a 17 punti, a meno tre dal Gelbison capolista e, tolta la partita di Coppa in programma mercoledì 3 novembre a Castellabate, non dovrà più giocare partite infrasettimanali fino a dicembre. Quindi il tecnico avrà sempre la possibilità di preparare le gare di campionato con i suoi giocatori in una maniera un po' più normale. A cominciare da quella di domenica prossima con San Luca, che i bianco-blu dovranno cercare di vincere, sperando anche in un pareggio tra Paternò e Gelbison allo stadio Falcone-Borsellino.